Grazie ancora, grazie veramente di essere qui anche questa sera e come solito ringrazio tutti i volontari e anche coloro che come vedete hanno montato nella calura di oggi il palco. C'è molto lavoro dietro a questi incontri. Quest'anno festeggiamo i cinque anni e quindi sono molto contenta che ritorni con noi perché era stato il primo anno Gregorio Fracchia. Gregorio Fracchia è difficile riassumere la sua peraltro giovanissima biografia, è chitarrista e compositore. Nel 2016, e questi anni sono passati velocissimo, era stato inserito tra i venti e ventenni top in Italia nella classifica di Repubblica. Era il 2016. Nel 2017 è avvenuto il mio incontro, io allora lavoravo ancora in casa editrice perché in un'intervista che avevo sentito da solo 24 ore, avevo preso in coda questa intervista perché non riuscivo a capire questa voce che rispondeva alle domande così in modo esatto e puntuale, quanti anni avesse. Alla fine l'intervistatore chiede ma quanti anni, domani che giornata è? Lui risponde con più vent'anni. Io non sono per niente tecnologica, in venti giorni ci ho messo tempo a come risalire al suo nome, ho scoperto che era Torino perché in questa intervista aveva rivelato che aveva un suono nel cassetto che era quello di scrivere un giallo e quindi nel 2017 è uscito l'altro suono nell'ombra. Una sua composizione è stata anche inserita nel film di Vicari di cui ovviamente non mi sono scritta il nome e non lo ricordo e nel frattempo ha fatto anche il dottorato di filosofia. Quindi veramente un ragazzo straordinario e quindi lo ringrazio a nomi di tutti per essere ritornato tra di noi. Io vi ricordo sempre la busta perché questo appunto ci permette anche gli effetti di questa sera e vi auguro a tutti buona serata. Grazie ancora. Scusate, intanto ringrazio tantissimo Gregorio. Volevo aggiungere una cosa, stasera è anche l'occasione e ringraziamo Gregorio per inaugurare l'appena completata restaurazione della facciata perché da ieri anche i due parti laterali sono stati conclusi quindi davvero potete avvirare il San Michele pulito, restaurato e tutta la facciata quindi davvero Gregorio stasera inauguri la nostra facciata. Grazie mille. Allora grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti per essere qui e grazie a Don Paolo e a Enrico per l'invito, mi fa molto piacere soprattutto vedere che questa iniziativa si è così ampliata nel corso di pochi anni, di cinque anni. e ho potuto constatare un panterre di ospiti illustri e quindi mi fa molto piacere e rinnovi i miei complimenti a Enrico e a Don Paolo per la tenacia, per la capacità organizzativa e tutto quanto. Sono onorato di inaugurare questa facciata. Io ho suonato un anno nella chiesa, è una bellissima acustica, quindi mi fa molto piacere essere qui nuovamente. Adesso vi suono un mio brano che ho composto quando ero 16 anni, quindi sono passati un po' di anni, si intitola Secret ed è un brano del primo album che io ho pubblicato come compositore. Grazie a tutti. 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 Ha avuto un figlio, è una figlia credo, ma un figlio di sicuro che è il maggiore esperto di questa malattia che sostanzialmente rende immobili dal volto in giù, dal torace in giù. Io ho un'amica che si chiama Giovanella Porzio, che è anche cavaliera al merito della Repubblica, nominata da Mattarella ed è credo campionessa olimpica di danza sulla carrozzina. Lei è affetta da questa malattia e ha tirato su una squadra di persone che danziano tutte affette da questo raro morbo e quindi abbiamo fatto uno spettacolo dove loro danzavano e poi io ho suonato e ho scritto questo brano in questa occasione che è ancora inedito, l'ha pubblicato poi prossimamente e ve lo suono, è la prima volta che lo suono, quindi è un esperimento, vediamo come viene. Grazie. 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 prestate in diretta continuità con la tradizione, quelle vere e proprie fondate e appunto si sono sviluppate delle idee che vanno oltre la tonalità, i due modi maggiori e minori tipici della musica con accordi, intervalli che in realtà hanno avuto anche una vita per quanto come linguaggio estetico abbastanza breve che si è poi esaurita subito ma che sono interessanti secondo me si ripresi non come scimmiottati per riproporre delle avanguardie che oggi sarebbero storiche ma immettendoli in brani di questo tipo che sono ritmici che strizzano anche un po' l'occhio al pop e quant'altro quindi cercare di unire tutti i lati del progresso musicale che ci sono stati nel novecento, gli altri generi ma anche gli sviluppi interni al repertorio cosiddetto colto. Adesso invece vi faccio un brano di nuovo del mio maestro Maurizio Colonna che si intitola Granita e questo è un pezzo che io ho inciso una decina di anni fa in prima assoluta, ce l'ho registrato per la prima volta io, adesso è abbastanza famoso ed eseguito e ve lo suono, è un chiaro riferimento a Picasso ma è un brano che è un po' alla natura di uno tsunami sostanzialmente. Grazie a tutti. 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 Vediamo che sia una sentenza di dolore. Adesso vi suono invece un mio brano che si intitola Il mare, è il primo pezzo che ho scritto nel 2009, quindi avevo 13 anni e l'ho scritto quando è mancata mia nonna Giannina, è un brano cui tengo molto e è anche uno dei primi che ho pubblicato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.